A palti truccati a Benevento, ai domiciliari il presidente della provincia, altre 17 misure cautelari, Giorgio Specchia. Così spavaldi da scambiarsi il denaro direttamente negli uffici della provincia, nelle immagini delle telecamere nascoste, un viavai di intermediari sarebbero loro, per chi indaga, l'anello di congiunzione tra politica e imprenditoria. 18 le misure cautelari, 8 le persone agli arresti domiciliari. Tra queste anche il presidente della provincia di Benevento, Antonio Di Maria, esponente del centrodestra. Abbiamo una viabilità obsoleta perché non si è fatta manutenzione. Parla di viabilità in questa intervista al sito NTR24 e sotto inchiesta. Ora, ci sono anche i lavori per l'ammodernamento delle strade provinciali, con lui, indagato per turbativa d'asta, ai domiciliari anche il sindaco del comune di Buonalbergo. Per la procura sono 11 le gare d'appalto truccate nell'ordinanza. Il costo per aggiudicarsene una, un 10% del totale da versare in contanti, un altro 10% da pagare con fatture false o promesse di futuri lavori. Ai bandi prendevano parte, come figuranti, altre società compiacenti. Primo fine vita medicalmente assistito in Italia. È stallo sulla procedura per Mario Tetraplegico immobilizzato.